Vuote. Sei un guscio senza anima. Come puoi sperare di sistemare le cose? Nicolai, so che spesso sono ostile nei buon confronti. Questo perché le nostre ideologie sono diametralmente opposte. C'è un guscio senza anima. C'è un guscio senza anima. C'è un guscio senza anima. Dopi punti. Ci meritiamo una ricompensa. Ho ingannato la morte. Di nuovo. Mi riservo di valutare l'efficienza di quest'arma. Questa sa di capitalismo. Sto finendo le munizioni. Sto finendo le munizioni. Siamo costretti a collaborare, Rektofen, ma ricorda che non saremo alleati per sempre. Anche se non andiamo d'accordo, Nikolai, sa più le cose. Ho un manufatto che ci aiuterà in questo viaggio. Le fiamme purificano questa terra a grotta. Quanti risvolti illogici. Riuscirò meglio a comprendere questa folia. Quanti risultati. Quanti risultati. Quanti risultati. Rektofen. Avrai sempre le mani sporche di sangue Capetiere! Sei un male che va estirpato Non sai cosa sto facendo per te, Nicolai Che resto non ho appena ucciso me stesso Voglio le loro anime Ehi, non è che quei cani da guerra ce l'hanno con noi? Lo faccio solo per sentirmi un po' meglio Il resta le pancure Il resta le pancure Il resta le pancure Un gusto che non ha niente di russo Pieno carico Munizioni al massimo Uguale massima sofferenza Punto Non mi servono le gambe per tiborarci. Non so da dove arrivino queste armi, ma mi sta bene così. Non so da dove arrivino, non so da dove arrivino. Non so da dove arrivino, non so da dove arrivino. Chi cazzo è Maxis? Io non l'ho mai visto. A parte quel cervello che abbiamo trovato in Francia. Sono senza munizioni! Non so da dove arrivino. Una mia nave... Ha un gusto forte, ma non quanto la presa di sangue in alto! Mi hai graffiato! Lanciargli l'arma a dorsi non mi sembra la soluzione ideale! Vieno, Carlo! Questo russo è pronto a versare al più sangue!